Siamo qui per la festa del pane 2022, sempre grazie a Francesco Foggia che riesce a coinvolgerci. Mi ha coinvolto per seguire questa direzione insieme a tanti artisti di livello nazionale, siciliano e provinciale. Abbiamo coinvolto un po' tutte le province e siamo riusciti a portare anche qua la presenza di Arianna, Jessica che sono di Marsala insieme a Enzo Campisi e a Gloria Genna. Poi abbiamo anche Antonia Muscarniera che è di Sciacca e poi abbiamo coinvolto pure anche un artista di Palermo che dovrà ancora cominciare il lavoro. Stiamo cercando di trasformare questo territorio, questo borgo che diciamo è rimasto un po' abbandonato dagli episodi precedenti in cui abbiamo realizzato la scultura nel 2018 e nel 2016 questo murales che ora l'ho dovuto fare il restyling di questa cosa. Stiamo cercando di ridonare, ritoccare e far rivivere questa borgata che era un po' abbandonata. Io dico i musei non sono solo al chiuso, i musei sono all'aperto. Dobbiamo riuscire ad aprire le porte e a fare arte in plenari, andare fuori, buttare colore, manifestare emozioni. Tutto quello che ogni artista prova e che penso quando dipinge l'emozione è difficile anche da percepire, da trasportare. Noi siamo qua proprio a dare questo, a dare la nostra emozione, alla nostra vita, a dare la nostra passione, a cercare di coinvolgere. La passione coinvolge. Io vedo che la gente del borgo, anche vedendoci noi in movimento, ci sono tanti altri che stasera sono assenti, si entusiasmano insieme a noi e diventano poi loro i custodi di questo territorio, i custodi di questa borgata, i custodi del nostro colore, della tutela dell'arte come forma di protezione alle nostre opere. Proprio qua accanto a me c'è Jessica, magari lei stessa può dire qualcosa su quello che ha fatto, due parole, quello che vuoi dire, Jessica. Buonasera a tutti. No, io intanto ringrazio chi mi ha invitato a questa manifestazione, cioè Gerry e Francesco Foggia per aver ideato questa festa che penso sarà una grande occasione di far fruire l'arte appunto anche al di fuori del museo e quindi renderla fruibile a tutti. Ho accettato con molto piacere e con più piacere ancora ho potuto appurare l'accoglienza di questa borgata perché dal primo giorno io e le mie colleghe marsalesi siamo state accolte proprio con un entusiasmo e con un affetto che da tempo non si viveva e che è difficile oggi trovare. Quindi ringrazio tutti gli abitanti anche perché ci spronano ogni giorno a continuare a fare bene e quindi spero che vada meglio di come si prevede, che ci saranno altre occasioni ed eventualmente almeno io sono disponibile a ripetere l'esperienza perché finora è stata totalmente positiva. Allora io sto realizzando una donna siciliana con i tratti proprio siciliani, con limoni, con l'uva siciliana farò delle palle di figo d'India e sarà pieno di colori, riuscirete a vedere, però la sto realizzando e mi riallaccio anche al discorso che ha detto Jessica, comunque l'accoglienza è stata una delle migliori perché sin da subito ci hanno accolto con tante cose da mangiare, tante cose da bere è stato bello perché abbiamo conosciuto tanti altri artisti, ho ritrovato altre persone che conoscevo che dipingevano, grazie a Gerry, grazie a Francesco, grazie a tutti i fotografi, tutti quelli che i ragazzi del bar che ci hanno aiutato sono stati fantastici, grazie veramente. Purtroppo il mio lavoro è appena iniziato, per impegni personale non mi è stato possibile essere qui presente non vedo l'ora appunto di inoltrarmi anch'io in questo viaggio, però voglio ringraziare appunto il mio collega Gerry Bianco e Francesco Foggia e quindi un bocca al lupo a tutto, mi raccomando non credo io ma grazie